Grazie a tutti. Se continuiamo ancora la statistica, siamo sempre nell'ambito della statistica descrittiva, ci occuperemo degli indici di tendenza centrale e degli indici di dispersione. Queste cose le ho anche trattate nel primo corso di statistica fatto, quindi richiedetemelo perché è importante, perché vi serve. Qui dovete approfondire dei concetti molto più importanti, dovete comunque approfondirli e capire meglio come possono essere calcolati in altri contesti. Insomma, sono dei chiarimenti, sono degli approfondimenti, sono altri esempi in più. Quindi mi raccomando, seguite l'altro, ma seguite anche questo, perché è importante ai fini dell'esame. Allora, se qui abbiamo la rappresentazione di una nostra variabile, e qui abbiamo le modalità che può assumere la nostra variabile, in questo caso sono valori numerici, e qui abbiamo la nostra distribuzione di frequenze, ecco quindi questa è la nostra distribuzione, Allora, gli indici di tendenza centrale che mi identificano il centro della mia distribuzione, che andremo a vedere, sono la moda, la media e la mediana. La media è quella più utilizzata che praticamente quasi tutti voi conoscete. Mi raccomando, di tanto in tanto ve lo dico, questo corso è più approfondito rispetto al precedente corso di statistica, però in questo corso sono approfondite delle cose che nel precedente corso non lo sono. Nell'altro corso di statistica, nel primo, vengono approfondite cose, altri argomenti, come la distribuzione binomiale, e via dicendo, e altro, che qui non li trovate, quindi abbiateli entrambi. Continuiamo. Gli indici di dispersione, un indice di dispersione che vi ho già detto, mi dice quanto i dati sono dispersi rispetto al centro della mia distribuzione, e i principali sono, che vi interessano per il momento, la deviazione standard e il range interquartile, o detto anche differenza interquartile, che avete anche visto nel precedente, chi di voi ha seguito il precedente corso di statistica, l'ho già visto, qui lo vedremo meglio, perché qui proprio vi insegnerò a capire perché dovete utilizzare l'uno o l'altro indice di tendenza centrale, e in base all'indice di tendenza centrale, quale indice di dispersione dovete utilizzare, ed è più appropriato, ed il perché. Queste sono cose molto importanti, perché vi aiutano a dare un senso, ecco, maggiore, quindi approfondiamo meglio. Approfondiamo meglio diversi aspetti che non ho approfondito nel precedente corso. Io ho messo media, ma sotto media aritmetica, perché abbiamo più di una media, più di una tipologia di media, più di una media, non abbiamo solo la media aritmetica, la media aritmetica è quella che si usa di più, però poi vedremo anche altri tipi, come la media ponderata. La media, che cos'è? È un indice, uno degli indici di tendenza centrale, che vi ho elencato prima, ed è il... Allora, giusto due paroline precise per quanto riguarda la media pesata, anche perché è un concetto che veramente si studia alle superiori, e in linee generali anche alle medie, però lo studiate anche alle superiori, quindi, velocemente, anche perché mi interessa passare ad argomenti un attimino non immediati da capire. State attenti, in moda media e mediana, questi sono tutti e tre indici di tendenza centrale, quindi, appunto, la stessa parola lo dice, ve l'ho già detto, identificano, tendono al centro della distribuzione, e, però, andatevi a riprendere la spiegazione che vi ho fatto inerente alla media, la stessa cosa vale per la mediana, insomma, gli indici di tendenza centrale sono quelli, quindi quella definizione sia per la media, che per la mediana, che per la moda, per la definizione generale, poi ovviamente ci sono delle differenze. Queste, ecco, adesso io approfondisco diverse altre cose qui, perché le generalità, ma proprio le generalità, diciamo, le generalità e generalità e esercizi, esempi e via dicendo, ve le ho già spiegate nel primo corso di statistica, quindi vi consiglio di andarvi a cercare moda media e mediana lì, prima magari. In ogni caso, non è difficile da capire qui, lo riprenderò un attimino il congetto di mediana, ma avendolo già approfondito, io nel primo corso di statistica, dopo averlo studiato là, qui, poi, ecco, andate avanti approfondendo altri aspetti molto importanti, che dovete sapere, perché capitano all'esame, capitano molto spesso, questo vale per la media, per la mediana e anche per la moda, quindi per tutti e tre gli indici di tendenza centrale, come per tutto il resto che saranno, ciò che vi spiegherò in questo corso. Allora, cosa voglio dirvi, qui, cioè, qui, vabbè, vi ho identificato le distribuzioni così, eh, qua abbiamo, ovviamente, prendiamo una distribuzione, qui abbiamo i valori della nostra variabile, e qua abbiamo la distribuzione di frequenza, e qua abbiamo le nostre frequenze, quindi abbiamo, quindi quella che è la nostra distribuzione di frequenza, la stessa cosa, eh, vale qua, la stessa cosa vale qua, per esempio, frequenze assolute, sono concetti che conoscete, abbiamo visto le frequenze assolute, le frequenze percentuali, le frequenze relative, vi ho spiegato tutti i vari tipi di variabili, vi ho spiegato come sintetizzarli, sia da un punto di vista, sia utilizzando una tabella di frequenze, sia utilizzando un grafico, i vari grafici, e quindi ovviamente non vi viene difficile comprendere questi, di grafici, andate a riprendere le precedenti lezioni, andate a guardare i grafici che vi ho spiegato, andate a guardare gli esempi, che vi ho fatto, le variabili, che come ve le ho messe, come abbiamo sintetizzato i dati, e qua è la stessa cosa, solo che vi ho messo una curva, allora, quindi, a fatto che voi abbiate seguito le lezioni, se no è tutto arabo quello che vi dico, ve lo dico prima, cosa vediamo qua, ecco, tra le varie, possiamo essere dinanzi a tre tipi di distribuzioni, una distribuzione simmetrica, dove se la spacco in due, vedete che è uguale a destra a sinistra, quindi questo a primo impatto, occhio è giusto per dirlo, una distribuzione asimmetrica a destra, perché asimmetrica a destra, detta anche asimmetrica positiva, e se la spacco in due, vedete dal punto più alto, che sarebbe la mia moda, la modalità prevalente, poi vedremo, comunque ve l'ho spiegato nel primo corso, questa è la moda, qui vedremo altri dettagli, e lo riprenderemo, se la spacco in due, non è simmetrica, a destra è diversa che a sinistra, vedete che in una distribuzione simmetrica, i valori, allora ovviamente qui, i valori non vi li ho messi, ma fate finta che ci siano, quindi non so, in base alla variabile numerica continua che avete, avete quindi determinati valori, non so, mettete quel che volete, in base alla variabile numerica, non so, attenzione, i valori vanno da meno infinito, a più infinito, ora, in quella che è una distribuzione, quindi, la nostra funzione non tocca l'asse del x, in quella che è una distribuzione così rapida, rappresentata, in caso di distribuzione simmetrica, che cosa succede? Accade, che appunto, vedete la simmetria, tanto è uguale a destra, quanto è uguale a sinistra, qui abbiamo i valori della nostra variabile numerica, qui abbiamo le frequenze assolute, passando alla mediana, vi ricordo che qui, per il momento è un ripasso, molto breve, è un richiamo, perché ve li ho spiegati nel primo video corso di statistica, e poi mi interessa invece farvi capire la media, altri aspetti della mediana, come calcolarla in altri contesti ambiti, che vi possono capitare all'esame, vi interessa farvi capire quello, ecco, se avete una tabella di frequenza, voi sapete bene, che prima bisogna ordinare, i dati in senso crescente, crescente. Allora, state ben attenti, come calcolo la mediana, se ho una tabella con le frequenze percentuali? Poniamo un esempio, poniamo che è stato fatto uno studio, dove i soggetti del mio campione, hanno, ecco, facendo un questionario, un punteggio, che può essere, che va da 0 a 5. Abbiamo qui le frequenze percentuali, eh? Per dire, il 42% dei miei soggetti ha preso punteggio 0, il 10% 1, il 13% punteggio 2, il 15% ha avuto punteggio 3, il 4% ha avuto punteggio 4, e il 16% ha avuto punteggio 5. Quando, se ho di fronte una tabella del genere, con le frequenze percentuali, come calcolo la mediana? Devo andare a calcolare prima le frequenze percentuali cumulate. La migliore cosa da fare è calcolare le frequenze percentuali cumulate, e poi, dopo aver calcolato le frequenze percentuali cumulate, che cosa faccio? Vedo se ho il 50% della mia frequenza percentuale cumulata. Allora, se c'è la posizione della mediana, attenzione alla posizione, tra il 50% della frequenza percentuale cumulata, e il successivo valore. se invece non ce l'ho il 50% cumulativo, la posizione della mediana, la trovo andando a prendere il valore immediatamente successivo al 50% cumulato. Quindi il primo valore che supera il 50% della frequenza cumulata. adesso vi faccio vedere, ovviamente, al lato pratico. Quindi, trovata la posizione, vado a vedere la mediana. Ricordatevi che R, la mediana, è un indice di tendenza centrale, ma è relativo alla modalità della mia variabile. Quindi, un po' come abbiamo visto nei precedenti esercizi, anche qui dobbiamo tener conto delle modalità della mia variabile, che sono queste. Quindi, allora, io qui ho le frequenze percentuali, però ho frequenze percentuali semplici. da qui, andiamo, andate a calcolare voi, perché lo sapete fare, le frequenze percentuali cumulate. E vedete se avete il 50%, oppure se non ce l'avete. E quindi comportatevi di conseguenza. Stoppate il video, poi, adesso, e poi, ovviamente, andate avanti per vedere se avete fatto i conti giusti. Mi raccomando, le frequenze percentuali cumulate, tutte queste robe, qui ve le ho spiegato nelle lezioni presenti. Non saltate mai una lezione. Allora, come fate a calcolare la mediana quando avete, per esempio, un grafico a gradini? Questo grafico lo conoscete bene, caratteristico di di una variabile numerica continua, scusate, discreta, non continua, di una variabile numerica discreta, infatti, tra l'uno e l'altro valore non abbiamo valori, per esempio, tra uno e due non ci sono valori, abbiamo il valore uno, abbiamo il valore due, tre, e quindi la variabile numerica discreta, come sapete, è una variabile numerica che ha come modalità numeri naturali. Nella variabile numerica continua, ci trovate anche i numeri con la virgola, per dire, però questo non è, come sapete, e vi ho spiegato bene in precedenza, nelle precedenti lezioni, un grafico dove abbiamo una variabile numerica continua, ma abbiamo una variabile numerica discreta. Mi raccomando, queste cose, perché possono darvi un grafico e farvi prima domanda all'esame che variabile avete dinanzi, seconda domanda all'esame è appunto per dire l'ambito di quelli che sono gli esercizi sempre della statistica descrittiva, poi ovviamente ci saranno anche esercizi della statistica inferenziale che vedremo dopo, però per il momento stiamo facendo questi e poi tra le varie domande che vi possono fare dipende, ne abbiamo viste diverse, ve ne ho dette diverse di domande che vi possono capitare, tra le quali qua stiamo parlando della mediana e vi possono dire qual è la mediana qui. Se qui abbiamo la nostra poniate che qui ecco sull'asse Y vi ritrovate le percentuali accumulate, sull'asse X avete le vostre modalità della variabile quindi abbiamo il nostro grafico a gradini qual è la mediana? Allora che cosa ho fatto? Tracciate semplicemente una linea anche in un grafico del genere vi avevo spiegato grafici del genere questa volta non è un grafico a gradini questa è una variabile numerica continua eh se no avremmo avuto i gradini per le motivazioni che vi ho spiegato quando vi ho spiegato le differenze di questi grafici quindi qui abbiamo le frequenze percentuali accumulate come faccio in modo approssimativo a calcolare la mediana stessa cosa vado a vado a tracciare una linea a livello del 50% del vado a guardare le mie frequenze accumulate a livello del 50% calcolo e vado a tracciare una linea parallela all'asse delle X quindi riprendo questi grafici che vi ho fatto ecco perché ve li ho elencati tutti sia nel caso di una distribuzione simmetrica che asimmetrica nelle tipologie di distribuzione asimmetriche ecco qui li vedete tutti e tre gli indici di tendenza centrale la media che conoscete ormai la mediana che ormai conoscete sapete calcolare in più contesti e ci manca da vedere la moda anche la moda è un indice di tendenza centrale quindi moda media e mediana sono tutti e tre indici di tendenza centrale bisogna vedere laddove è possibile calcolarla l'una o l'altra e se ha senso calcolarla l'una o l'altra se a rischio oppure meno quindi sono delle valutazioni che bisogna fare l'abbiamo visto per la media l'abbiamo visto per la mediana vediamo adesso per la moda attenzione la moda l'ho spiegata nel primo video corso di statistica quindi vi invito di tanto in tanto vi dico a riprenderla qui come abbiamo fatto per la media e come abbiamo fatto per la mediana approfondiamo degli altri argomenti relativi alla moda detta anche modalità prevalente e diciamo facciamo qualche altro esempio ma mi raccomando integratele queste cose nel modo più assoluto tra primo video corso di statistica fatto e questo video corso di statistica integrate i due video corsi li avete tutti e due meglio per voi quindi vediamo l'ultimo indice di tendenza centrale che è la moda detta anche modalità prevalente allora vediamo la moda cioè il fatto che moda si chiama anche modalità state ben attenti prevalente già vi dice tanto 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 se ci ragionate per logica in ogni caso prendete il primo corso di statistica ne avete anche lì una definizione avete degli esempi e via dicendo vediamo qui di riprendere un attimo il concetto e di fare esempi in ecco altri contesti state ben attenti prima di terminare questa lezione perché ovviamente va da sé anche per logica che non tutte le distribuzioni sono unimodali cosa significa distribuzione unimodale distribuzione unimodale significa una distribuzione che ha una sola modalità prevalente per esempio guardate questo grafico dove per esempio qui ho le mie le mie frequenze percentuali e qui ho le modalità della variabile ecco qual è la 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 modalità prevalente in questo grafico come la come la trovate e mi pare ovvio che vado a guardare il picco del grafico poi quindi traccio una linea scendo giù all'interno dell'asse delle x e vedo quindi qual è il valore qual è il valore della mia variabile quindi qual è la modalità della mia variabile che è appunto prevalente e questo lo vedo perché appunto ho preso il picco la percentuale più alta quindi è la modalità prevalente della mia variabile e il valore però attenzione questo mi da la posizione il picco poi scendo il valore lo prendo sull'asse delle x dove ho come vi dicevo le modalità della mia variabile quindi per esempio i numeri nel caso numeri nel caso di una variabile numerica sono presenti però altri contesti dove la modalità della dove non abbiamo soltanto una moda ma abbiamo magari due mode quindi due modalità prevalenti per esempio guardate questo grafico qui di o di di di